una buona serata a tutti amici di super j fase stabile e moderatamente calda quella attuale in attesa dell'arrivo di una bolla calda nord africana che invaderà la nostra penisola tra sabato e lunedì prossimo per domani tempo soleggiato in buona parte della penisola anche se saranno possibili temporali di calore pomeridiani sui rilievi appenninici ed alpini per quanto riguarda l'abruzzo sarà un giovedì all'insegna del sole in tutti i settori al mattino e maggiore nuvolosità sui rilievi al pomeriggio non si escludono possibili temporali di calore che potranno interessare occasionalmente anche le zone pedemontane la ventilazione risulterà debole di direzione variabile ed il mare calmo in tutti i settori le temperature minime di questa notte saranno comprese tra 13 e 20 gradi e le massime di domani in ulteriore aumento comprese tra 26 e 30 gradi per la meteo è tutto buon mercoledì sera a voi